Peppe Channel A-A-A-A-A-Aa-�, pronto? PEppszeria! Poi pu, porco di dio a-ahahah Cosa sai cucinare tu? NENTE!! Ma cosa che sa cucinare meglio? NENTE! Perchè Davide lo fa cosi? Guarda si spacca, che sacca è un esempio Guarda si spacca la bocca Beee on end, io e su Splittiamoci, splittiamoci in casa Amiga splittiamoci Non sono io, è stato Davide Si sacca Davide a tornare in cabana A verri mo Si si torna, non sono saltato Che ducascao, che ducascao Nooo si è saltato Come faccio io non lo so nemmeno io Sacraferenza Si è caduta raga Mamma mia Oh Uno cascao Grappa adesso andò Grappa adesso andò No C binnen Ha Inizia il camera non ha mai vinto, non ha mai vinto, non ha mai vinto, è in lacrime, inizia il camera